Sono venuta a prendere i biglietti ma ho saputo che non si farà più. Faccia incredule davanti al cinema moderno di Vibo Valencia dopo l'improvviso annullamento dello spettacolo Serata in famiglia che sarebbe dovuto andare in scena di lì a poco. Il cinema, stando alla relazione dei Vigili del Fuoco, non è agibile per attività teatrali. La diffida, improvvisa quanto inaspettata, è stata notificata dal proprietario del cinema il quale non ha potuto fare altro che cancellare lo spettacolo. Mi hanno chiamato i Vigili del Fuoco e mi hanno notificato dicendomi che noi non abbiamo l'agibilità per fare teatro, solo cinema. Non so, fino ad oggi ce l'avevamo avuto, adesso le leggi evidentemente cambiano da un giorno all'altro. Appresa la notizia, gli attori della compagnia di teatro amatoriale La Ribalta hanno presidiato l'ingresso del cinema vibonese per protesta ma soprattutto per chiedere scusa a tutti quei cittadini che avevano già pagato il biglietto. Grande amarezza, delusi perché nella vita facciamo altro ma il teatro è la nostra passione e purtroppo scopriamo solo oggi che Vibbo non può ricevere soggetti amatoriali e o professionisti che vogliono fare teatro e cultura teatrale perché non c'è un luogo per mettere in scena quello che è una passione.